La vice capolista SEAP Pallavola Ragona prepara la prossima impegnativa partita del campionato di serie B2 Girone I. Per la ventesima giornata le ragazze di coach Paolo Pollavini saranno di scena a Reggio Calabria contro il Volley Region, formazione in piena lotta per il terzo posto e consente di disputare i profi per il salto in B1. Il sessetto calabrese allenato dall'esperto Massimo Salvago è quinto con 34 punti, a meno 4 dal Volley Giarre, terzo in classifica. La partita Volley Region Reggio Calabria-SEAP Pallavola si disputerà domenica 17 marzo alle ore 18 al palasporto Umberto Boccioni di Reggio Calabria. Gli arbitri della gara saranno i Lombardi Marco Artina e Daniele Campanile. La SEAP Paragona sta preparando la partita nei minimi particolari, consapevole dell'importantissima posta in baglio e delle qualità tecniche dell'avversario, che soprattutto in casa sembra avere una marcia in più. Coach con la vina a tutte le ragazze a disposizione, tranne la palleggiatrice Martina Baruffi.